E' quello che abbiamo stabilito, deciso e discusso nel comitato che si è tenuto a Napoli. Il Ministero ha preso atto per esempio dell'ottimo lavoro che si è fatto nella città di Napoli. Noi abbiamo chiesto e ottenuto in questi mesi più videosorveglianze e questo si è ottenuto. Abbiamo adesso chiesto rinforzi umani e materiali alle forze dell'ordine di Napoli che fanno un lavoro eccellente e la presenza dell'esercito a presidiare, come già avviene, gli obiettivi sensibili. Faccio un esempio, porto, aeroporto, uffici giudiziari, stazione ferroviaria. Poi la lotta al crimine le fanno le forze dell'ordine che devono essere rafforzate. Là questo si è deciso, quindi questa è la linea che va utilizzata e non credo che il Viminale si discosterà da quello che ha deciso e ci ha comunicato in quella sede. Per verità dobbiamo dire che le forze dell'ordine e la magistratura di Napoli hanno raggiunto risultati eccellenti. Siccome su questo si fa anche un polemica politica strumentale, ricordiamo con nettezza che la sicurezza, prevenzione e repressione è compito dello Stato. Forze dell'ordine e magistratura. Noi mettiamo in campo le azioni che stanno riscattando Napoli. Stagione culturale senza precedenti, turismo senza precedenti, una città che si sta riprendendo, una vivacità giovanile che non c'era mai stata. Adesso dobbiamo essere aiutati per evitare che appunto una violenza omicidiaria possa rallentare una crescita forte che la città sta avendo e che non aveva mai avuto negli ultimi decenni. Questo è il tema che attiene allo Stato. Nell'incontro io sono rimasto soddisfatto perché come videosorveglianze stiamo andando molto bene. A fine anno avremo mille telecamere, per la primavera andremo a 800 e questo è un risultato eccellente per la città di Napoli. Le forze dell'ordine vanno ringraziate ma a mio avviso sono poche. Il governo quando c'è stato l'Expo ha mandato le forze dell'ordine del Sud a proteggere l'Expo a Milano. Oggi Napoli, che registra un numero di omicidi che non va assolutamente sottovalutato, ha bisogno di rinforzi. La lotta al crimine le fanno i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri e loro devono essere rafforzati. L'esercito presidiasse gli obiettivi sensibili perché l'esercito è deputato a fare altro, non la lotta al crimine, criminalità comune o criminalità organizzata. Questo lo sanno tutte le persone che hanno speso una vita su questi temi.